Torniamo adesso ad affrontare alcuni aspetti tipicamente legali, probabilmente, con l'Avvocato Ernesto Gregorio Valenti, dello studio legale Vassaglio Livro e Associati, che si è occupato anche del caso Shalabaiva. Prego. Grazie. Ringrazio il Comitato Italiano Helsinki e Open Dialogue per l'invito per far parte di questo dibattito. Volevo cominciare proprio dalla relazione che ha illustrato in qualche modo brevemente Alex Tinsley del Fair Trials International. La settimana scorsa ho avuto il piacere, devo dire, di leggere questo documento che per persone interessate in questa materia è una lettura che ritengo fondamentale. È un lavoro fatto, si vede dietro, c'è tantissimo lavoro, tantissime statistiche, tantissime informazioni. Insomma, ho conosciuto Alex solo due ore fa, quindi non ho interesse. È proprio un lavoro molto ben fatto. E mi ha colpito proprio l'executive summary che, insomma, questo lavoro, oltre a fare delle proposte molto concrete su come si possa migliorare il sistema Interpol, rileva, secondo loro, due problematiche fondamentali. E leggendolo ho fatto un po' per bacco. Io ho vissuto questi problemi recentemente di persona con i miei colleghi sul piano professionale, purtroppo. Il primo problema che identifica Fair Trials International è proprio che non esiste una protezione del sistema Interpol da eventuali abusi, non esistono protezioni efficaci. E questo è basato forse sul presupposto che scrivono loro, che è un presupposto, diciamo tutti, giusto, ma forse non sempre vero, che il protections assumes that red notices are requested in good faith. Cioè il sistema è basato sulla buona fede delle persone che immettono informazioni in questo sistema. che, come dice detto prima Alex, è un sistema che serve, per carità. E questo è il primo problema e noi l'abbiamo affrontato recentemente. Il secondo problema fondamentale, per capire, e loro dicono l'executive summary, è che c'è una, diciamo, una mancanza di procedure per contestare l'inserzione di eventuali persone nel sistema. E soprattutto esiste una difficoltà pazzesca nell'ottenere informazioni da Interpol. E questa difficoltà nell'ottenere informazioni, diciamo, è ulteriormente complicato per chi lavora come noi in Italia. E volevo parlarvi brevemente anche di questo. Tornando alla prima problematica, ossia la mancanza di difese del sistema Interpol da eventuali abusi. Noi ci siamo occupati della deportazione. Prima qualcuno ha detto l'estradizione. Magari fosse stata un'estradizione, anche se anche lì mancano molte tutele, come diceva la collega Valentini, ma magari fosse stata un'estradizione, come sta subendo, insomma, il marito Ablia Zoffa adesso in Francia. Lei è stata deportata nel giro di 62 ore senza alcuna protezione. E io lì mi riporterò solamente dai documenti. Alma e Alua stanno ancora in Kazakstan. Noi li rappresentiamo, ovviamente è una situazione un po' delicata, quantomeno. Però volevo farvi vedere alcune cose, alcuni documenti, soprattutto non altre cose, che documentano e provano qualche abuso, se vogliamo, del sistema. Allora, da dove nasce tutta la storia? Come sapete, molto brevemente ve lo dico. Ablia Zoffa, Mukhtar Ablia Zoffa, è stato segnalato lui da un red notice. Alma e Alua non c'entravano assolutamente niente. Però questo red notice era mirato contro il signor Mukhtar Ablia Zoffa. Tra parenti sta ancora, ho controllato oggi, nonostante lui sia sottoposto a un procedimento di estradizione, Interpol ritiene ancora di tenerlo sul sito. È stato identificato in una villa di Casal Paloco qui a Roma, a metà maggio, fine maggio di quest'anno, e la polizia ha fatto un'irruzione in quella casa, non trovando Mukhtar Ablia Zoffa. Cosa hanno trovato? Hanno trovato una famiglia, due famiglie lì, tra cui Alma Chalabayeva e la figlia Alua. La signora Chalabayeva ha mostrato un passaporto della Repubblica Centroafricana, diplomatico, agli operanti e questo passaporto è poi stato sequestrato dagli agenti, dicendo che il passaporto era falso. Noi poi dicevamo che il passaporto era vero, loro dicevano falso, c'era tutto davanti e indietro. La cosa interessante, lo stesso giorno, oppure il giorno successivo che viene sequestrato questo passaporto, arriva un cablo dal National Central Bureau kazako, dicendo guardate, ci pare che ci sia anche la moglie di Chalabayeva lì, che forse potrebbe anche avere un passaporto centraficano falso, con questo numero. Come hanno fatto a sapere che un passaporto falso avesse un certo numero, non lo so. Comunque, detto questo, si vede che c'è stato qualche scambio di informazioni, però il messaggio arriva da Interpol, quindi il problema è questo, gli viene data una certa dignità, autorevolezza a questa informazione, che tant'è viene riportato lo stesso giorno dall'ambasciata kazaka, che con una nota verbale inviata alla Questura di Roma, l'Ufficio Immigrazione, dice, in base a dei dati dell'Interpol, la signora Alma Chalabayeva può usare i documenti di identità falsi, e anche qui riportano il numero esatto del passaporto falso. Niente, questo dà un problema qual è? Il problema, insomma, è che c'è uno scambio di informazioni non troppo lineare, questa informazione torna indietro dall'estero con una specie di sigillo dell'Interpol che gli dà una qualche dignità, però diventa un po' un cane che si morde la coda in tutto questo. Però c'è una cosa ancora più strana che viene fatta successivamente, dopo aver saputo di questo asserito passaporto centrafricano falso, perché noi riteniamo tuttora che sia un passaporto valido, lo dice anche il Ministro di Giustizia della Repubblica Centraficana, e abbiamo documenti verbali delle varie ambasciate, ma lasciamo perdere il problema, non è ovviamente un passaporto falso o meno, sono ben altri problemi in questa vicenda. Il 31 maggio, che arriva un altro cablo da Astana, continuando un po' sulla linea del passaporto falso, dicendo, se lo leggo così non dico cose errate, dice specificamente, se per caso trovate la Shalabayeva lì con documenti falsi, per caso, in case of revealing of illegal stay of Shalabayeva Alma in Italy under false documents, we ask your respective authorities to deport her to Kazakhstan. Ossia, nel caso che vi accorgete della permanenza illegale dell'Alma Shalabayeva in Italia con documenti falsi, vi chiediamo le vostre ità di deportarla in Kazakhstan. Questa viene mandata dall'Interpol. Ora, mi sembra qualsiasi commento su questo sia superfluo da parte mia, senz'altro. In questa vicenda, l'unica altra cosa documentale che vi sembra il caso in questa sede di evidenziare, e come molti di voi sapete, l'ha detto prima il collega, lei adesso non è in galera, però ha l'obbligo di dimora nella città di Almaty, dalla quale non si può allontanare. Perché questo? Perché lei è sottoposta a procedimento penale in Kazakhstan, cosa che gli è stata notificata il momento che è sceso dall'aereo privato ad Almaty. Questo procedimento penale, poi dopo vedendo i documenti si è visto, esiste quantomeno dal 30 maggio del 2013, ossia prima che è stata deportata, cioè deportata in Kazakhstan. Su questa pendenza, su questo procedimento c'è stato un silenzio assoluto da su. L'esistenza di questo procedimento avrebbe quantomeno, secondo noi, al nostro modesto punto di vista, obbligato le autorità a procedere per altri canali, quelli che esistono, sono previsti dal nostro codice, e tradizionali, e non di richiedere come hanno fatto il deportation della signora. Però noi ci auguriamo che, come dice anche l'abbonino, che con molta pazienza la signora e sua figlia riescano a tornare in Italia e soprattutto la all'UA possa riprendere i suoi studi che sono stati, diciamo, bruscamente interrotti. L'altra problematica che accennavo prima, che era stato evidenziato da Fair Trials International, è proprio il problema di contestare alcune cose del sistema Interpol, ossia di contestare l'inserzione di certe persone all'interno del database dei Red Notice, oppure di ottenere informazioni. E anche questo mi è capitato nel corso degli ultimi 5-6 mesi. mi chiama una persona, chiamiamo Mario Rossi, però da una repubblica ex-sovietica, dicendo, sono andato sul sito dell'Interpol e ho visto che c'è una bella mia foto con tutti i miei dettagli e vengo ricercato dall'Italia. mandami il coso e tentiamo di capire qualcosa. La pagina è questa, dove c'è scritto che lui è stato inserito dalle autorità italiane sulla Red Notice Board dell'Interpol. E poi, cosa che denuncia anche Fair Trials, ci sono due righe, ma due righe, anzi una e mezza, di che cosa è accusato? Criminal organization, fino a lì ci possiamo arrivare, association group, lì anche però ci pare che stiano parlando di associazione per delinquere, as thief-in-law, io thief-in-law sono dovuto andare su Google, non so cosa sia, in America abbiamo mother-in-law, però thief-in-law, cioè suocera, però thief-in-law non avevo mai sentito. Invece è un termine tecnico usato proprio dalle ex repubbliche sovietiche, cioè il thief-in-law pare sia uno dei promotori, lo chiameremo noi, di un'organizzazione criminale. Cosa si può fare a questo punto? O contatti il Commission for the Control of File, il cosiddetto CCF, oppure si può tentare di capire in Italia se pende qualcosa contro questa persona. Allora il CCF, leggendo il Fair Trials Report della Fair Trials International, sono quasi cascato dalla sedia, ho visto che ci sono episodi dove rispondono dopo 24 mesi, come ha detto Alex prima, e la mia richiesta pende da tre, quindi ero abbastanza ottimista. Però il CCF prima o poi mi risponderà. Mi hanno mandato una lettera dicendo che hanno riusciuto, però a quel punto siamo. Allora il cliente diceva, beh, pende qualcosa in Italia, ovviamente. Vallo a verificare, avvocato. Per fortuna recentemente c'è stata la modifica delle procure delle repubbliche in Italia, che sono passate da 157 procure diverse, adesso sono solo 126. Interpol è un sistema magnifico, basato sulla comunicazione tra vari paesi, soggetto a questi abusi dei quali stiamo parlando. Ma in Italia le procure delle repubbliche non sono collegate tra di loro, con qualche eccezione forse in ambito DIA, ma se io devo fare quello che si chiama un 335, ossia una richiesta che il mio cliente mi autorizza ad andare in procura a chiedere c'è qualcosa per me? Mi state indagando? Io lo devo fare in ogni procura della Repubblica italiana, 126 da Trieste fino a Enna. Voi capite, è un lavoro impossibile, uno magari va a caso, sei stato a Milano, l'aereo è atterrato a Roma, però quello è un problema che in Italia mi sembra, questa piccola critica ci mancherebbe per i nostri organi giudiziali, mi sembra che nell'era internet sia una cosa medievale, che una persona per capire se pensa contro lui. In Italia, non parlo di Interpol, quello ci metteranno 24 mesi, è un problema che va senz'altro risolto, ma anche in Italia, che uno non riesca a capire se esiste un procedimento penale, perché le procure della Repubblica non sono collegate. Non voglio uscire da tema, però mi sembra una cosa abbastanza grave. Grazie. Grazie.